CALL OF DUTY GHOST Io non l'ho mai visto in sto gioco E quindi ho detto ma perché non ci facciamo un bel video Dato che è la mia modalità preferita dopo Team Deathmatch Anche se devo ammettere questa modalità Mi fa sclerare non poco Nel senso che mi viene da prendere il calendario Partire dall'1 gennaio e finire il 31 dicembre 29 febbraio incluso Comunque modalità appunto Gioco delle armi nella mappa Strike Zone Tipo una cosa del genere Intanto ho fatto uno screen sulla PS4 così a gratis Intanto ho pure una richiesta amica Poi una notifica dell'estrasinistra Mamma mia notifica Allora un consiglio quando iniziamo questo gioco Hitmarker E di controllarsi appunto Le spalle Perché essendo praticamente un tutti contro tutti Sappiamo che I tutti contro tutti in questo gioco Hanno gli spawn Egregiamente schifosi Buono che sei morto Molto buono Ok sei qua Oh 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 OMG No se lo uccidevo Tipo era la Strike Best EU Jumpy Tech Forever and Ever Morto morto molto bene Molto bene Molto molto Fottutamente bene Cazzo Prima di questo ho registrato Ho giocato un L'ho anche registrato Però Meglio non vederlo Ho giocato tipo un 3-4 partite Di cui le ho perse tutte E soprattutto perché la gente Camperava troppo Veramente È un qualcosa di Di inconcepibile Quanto la gente Campera su questo gioco E adesso devo morire Guardate come muoio adesso Muori Eh Poi le armi Sto gioco Sto mandorità Cambiano tutte Perché non sono mai fisse Hanno un rinculo della madonna Quindi non sai mai Quale arma ti trovi E quale arma devi usare bene A meno che non le giochi tutte Sei un nerd No life E sai tutti Tutti i tipi di armi Di questo gioco Che è sto lobo Spam Oh Ma com'è che sono vivo Mamma mia Non so perché sono stato Sono rimasto vivo Ma L'importante è essere Appunto rimasto in vita Allora vediamo se Da qua dovrebbe uscire Qualcuno Cazzo Dove sei E muori E muori Dov'è Ci dovrebbe essere Un altro qua dentro Facciamo il giro un attimino Adesso muoio No Cos'è sta cosa OMG il minigun Oh my god il minigun Intanto 8-10 Il minigun Spara a bestia Cioè quindi non devo Tenere nemmeno un po' Muori Mamma mia Come ti ho arato Veramente Oh Mi ha arato anche lui Mamma mia Partita stradrenalinica 9-11 Questo giampite che se la sta giocando A bomba a bestia Intanto lancia puffi Che dovei morire Oh oh Attenzione con lancia puffi Stannato Quickscop ban Ok Lui me l'ha fatto a me però Adesso anche io tenterò di 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 tryarne uno Adesso morirò brutalmente Dai Dov'è No no Ah Dov'è Dov'è il nemico Non lo trovavo Cazzo Voglio vincere Puttana vacca Ops Aspetta Chi è sta roba Che arma Oddio L'ha ammazzato Muori No Avevo due Che mi stavano uccidendo A destra a sinistra A 12-17 Sta per morire No Sono arrivato Terzo Terzo Vaffanculo Mi piace Mi è piaciuta Ne facciamo un'altra Perché queste partite durano Un cazzo Soprattutto se giocate Molto Velocemente E quindi ne facciamo un'altra Perché questa malità Mi piace un po' Tio Anche se come avete capito Mi fa abbastanza Incazzare Intanto dovi Dovi farmi la barba No Trovo che non c'ho la minima voglia Quindi la lascio allungare E faccio il barbone Di sto cazzo Allora 12-12-9 12 sono i punti Praticamente Punti e uccisioni Mi chiedo perché Hanno fatto le cose identiche Cioè non ha senso Cioè uccisioni Cioè hanno messo un punteggio Vabbè Nella scoreboard hanno messo La cosa identica Ovvero punti e uccisioni Ma non mettete uccisioni Scrivete solo punti Che è la stessa cosa No voglio rigiocare Strike zone Perché prison brick Mi fa schifo Infatti tutti stanno votando Strike zone Perché è una delle mappe Più belle Molto bilanciata Non è enorme No no Ma perché votate quella sopra Ma siete proprio Dei pezzi di merda Io quella mappa la odio Veramente È la mappa più brutta del gioco Non so voi Ma veramente Sta mappa a me Fa cagare il cazzo Quindi Adesso vedrete Come succo In questa mappa In quella di primo Ho fatto relativamente bene Anche se Non so perché Sono arrivato terzo Anche perché Poteva arrivare Ben primo Però Mi dà fastidio Che Hanno votato questa mappa E quindi Adesso vedrete Come la succherò A bestia Perché proprio Sucare Abbombano Perfetto Intanto in questi giorni È uscito il DLC Onslaught Che giustamente Non è uscito Su PS4 Né tanto meno Su PC Perché L'Activision All'esclusiva Su Xbox One Xbox 360 Il che non ha senso Avere queste esclusive Solo su una console Perché Bah Non l'ho mai capita Queste esclusive prima Queste esclusive dopo Ma sti cazzi Intanto attenzione Arma col coltello Minchia mi ricordo Ai tempi di Non stavo utilizzando Quest'arma Ai tempi di Scrappyard Su PS3 Su Mv2 Mappa Scrappyard Che hanno aggiunto Anche nel DLC Onslaught Che praticamente E me ne andavi in giro Con sto coltello E facevi il run Mi sono spawnato In un buco E facevi il runner Con sta arma Tipo uccidevi tutti Facevi i scorre assurdi Veramente un qualcosa di Allora Avete visto quanti Sparkier Io mi chiedo Se una persona Nella vita reale Gli sparate Quattro colpi Nella schiena Mentre corre Se lui non si ferma E muore Sostanzialmente È questo Il dilemma Sarebbe da provare Magari qualcuno Se l'ho mai provato Di prendersi Quattro colpi Sulla schiena Mentre corre Mi dite se Ancora la gente Inizia a correre Continua a correre A bestia Oppure magari Si butta a terra Per morte Ma Comunque È una cosa che Bisogna testarla Perché In questo videogioco Secondo me Non hanno ben capito Cosa significa L'hit dai colpi Che se io ne sparo 50 in un nemico Deve morire Intanto è caduto Un albero Bene Anche quel nemico Dovrebbe cadere Mi sa che Secondo me Mi fa cadere A me Vabbè Scappiamo Dove cazzo sei No Sono caduto Io qua sotto Stanno cadendo Tante cose Guarda che Se adesso Sto accamparando E mi sto aspettando Il che sarebbe Una cosa giusta E lecita Però Mi fa incazzare Mori Me l'hanno ucciso Buono Oh La cosa che ho Che ho di in questo videogioco E che praticamente Mamma mia Questo jumpit Che si sta Si sta proprio performando E una cosa che Una cosa che ho di in questo gioco E che praticamente Se tu uccidi un nemico Gli togli 90 di vita Per arriva uno Gli eleva 10 Praticamente la kill non è tua È del nemico Anzi del compagno di squadra E mi dà fastidio Perché in battle Fid hanno fatto una cosa giusta Che praticamente Se tu gli levi Il 70 di vita E anche se poi Arriva un compagno E lo uccide La kill La prendete entrambi Quindi è una cosa Molto giusta Cosa che dovrebbe implementare Anche in questo cazzo di gioco Intanto la mia arma No non è la mia arma preferita Il multiplayer Appunto Il multiplayer Nel team deathmatch Comunque le altre modalità Utilizzo un'arma Che non mi ricordo Come si chiama Una mitraglietta Che ogni tanto Spunta anche nel Nel gioco delle armi Che è molto molto figa Cioè prende da qualsiasi distanza E uccide Tipo eh secondo me l'era Cioè io l'avevo visto Ma che devo Era un cadavere Veramente Perché non mi è spuntato Il tag sulla testa Tanto 6-4 6-10 Ehm Aspetta E che cazzo Ma da tutti i pori Veramente in questa mappa Non riesco a giocare Perché non so dove guardare prima Non si sa dove guardare prima Veramente Ci sono troppi punti aperti Troppi punti dove la gente Può spuntare Veramente È uno schifo di mappa Cioè la odio Da un sacco di tempo Comunque Che cazzo Devi morire Godo che sei morto Però te la sei presa Laddove non batte il sole Frosciazzo Devi morire E che cos'era Questo coso Intanto tipo urlando La mia voce Se ne sta andando Leggermente A quel paese Le mie corde vocali Stanno imprecando pietà Comunque si può ancora vincere Volendo Si può ancora vincere Bisogna che i nemici Mi si spawnano davanti Perché in questo gioco Funziona così Più nemici ti si spawnano davanti Più facilmente vinci Non è che quasi vince Per la skill Questo non è un gioco Basato sulle skill Ed è così Fidatevi di me Dov'è? Dove è andato a finire? Sta facendo il giro dei tubi? Giochiamo a tubicino? Devi morire Godo 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 Dove sei? Dov'è? L'ho hitato Io gli ho sparato Io gli ho sparato Ma giustamente Per il lag di merda Un colpo Non è entrato Perché Per lui Ancora io dovevo sparare Ma ok Lancia puffi Lancia granate Lancia granate Dov'è? Dove sei? E che cazzo Tu hai il tuo arma di merda Intanto non se ne vince una È sto gioco per Hit marker Lancia granate Lanciata In culo E giustamente Non muore Perché Se voi lanciate Lo stesso discorso di prima Una granata accanto a uno Giustamente resta vivo Non gli saltano gli arti Ma resta vivo Ma porca puttana Devi morire Non è morto Guarda che se mi uccide brutalmente Perché è giusto così Proprio t'ho fatto saltare le gambe Sto giro Bastardo Che è? Che è sta cosa? Oh Mamma mia 11.17 Dai magari arriviamo secondi Ma vaffanculo Tu e mamma Dai non gli fate fare L'ultima kill All'ultimo Tipo non gli fate fare L'ultima kill All'ultimo Vabbè No Fate fare l'ultima kill All'ultimo Oh oh Proprio ti ho preso L'ultimo proiettile Ti è venuto a cercare Oh questo era l'ultimo Vedete come mi stava Inseguendo col col coltello No 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 bastardi Dai non gli fatevi uccidere Dall'ultimo Non fatevi uccidere Fatemi arrivare No No Manco sono arrivato terzo Per una kill No ma che per una kill Comunque questa mappa Faceva schifo e l'ho detto Comunque ragazzi Se vi è piaciuto Invita a lasciare un like Un commento Se volete altri video Sul gioco delle armi Che a me piace un sacco Realizzarli Quindi sarei più che felice Di portarvi il trivia Su questo videogioco Appunto fatelo sapere Con un like Ciao ciao